come è iniziato tutto luna che è una pescarese doc mi ha inviato questo video da caricare in pagina che è diventato in poco tempo virale all'altro pensate ma io voglio cantare con loro quindi mi faccio 6.300 chilometri e vado a vedere di personale hi my name is alessandro do you like sing ho portato un regalo a gift for you it's a pen ringrazio il teramo calcio ci ha regalato queste penne i palloni venite venite a prendere le penne venite no alle torino eccolo eccolo one by one si 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 for you for you for you pole 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 raffaudato Bravissimi! Reta che la fratta! Reta che la fratta! Quando ne so fatte! Quando ne so fatte! Bravissimi! Now! The last one, all together! Spotta la capanna! Bravi! Dai, su! Finalmente lo pallosci! Però prima Luna ci deve raccontare qualcosa di veramente molto importante E non schiupare! Non schiupare! Quest'area si chiama Raucani La scuola è la Green Hill Grand Soleil I bambini in questa scuola sono circa 120 40 sono orfani For Kenya nasce nel 2017 Questa che vedete qua è una delle prime costruzioni che abbiamo realizzato Creare un'aula dove i bambini possono studiare È una 9x7 Proprio la settimana scorsa abbiamo finito a fare la lavagna Come vedete al muro stanno facendo lezione Questa qua è la prima di tre classi Le vostre donazioni vanno per vari progetti Madame Janet Quindi è questa scuola supportata dal governo Kenyan? No Quindi è tutto su donazioni La stessa elettricità C'è elettricità in questa scuola? Uno dei nostri progetti è quello di inserire dei pannelli solari che possono andare ad alimentare tutte quante le luci Considerate che questo è tutta un'area senza elettricità Che cosa vuol dire? Che è buio Di notte anche c'è un problema di sicurezza E quanti insegnanti? 13 insegnanti 13 insegnanti 13 insegnanti Cosa studiano qui? Stiamo studiando l'inglese, la matematica, la studia sociale Agricoltura è importantissima perché ovviamente è uno dei principali metodi di sostentamento Vediamo, metto la prova 3 più 8 3 più 8 11 10 Minus 4 Minus 6 Ah, minus 4 Vieni sui inglesi Sorry I go to study English Facciamo una piccola domanda a loro Che è? Cosa vogliono fare da grandi? Doctor Doctor Teacher Teacher That's good Which opportunity they have after they finish school here? Oh, for now no Qui il servizio è veramente zero, non c'è nulla Non c'è un ospedale, non c'è nessuna struttura dove loro potrebbero essere impiegati Quindi la risposta è nessuna grande opportunità Questa è la polenta bianca chiamata Ugali Si fa appunto con farina di mais Perché il mais è una delle coltivazioni più presenti in questa zona So, they eat any meat Never Né frutta né nessun tipo di carne o proteina Quindi ciò che mangiano è semplicemente questo Abbiamo deciso che il progetto della fattoria sarebbe diventato prioritario Fino a che non raggiungeremo i soldi necessari per costruire una fattoria Galline, capre, mucche Ma questo non è possibile senza l'acqua E qui l'acqua non c'è L'abbiamo portata noi a settembre con l'attacco all'impianto idrico Ma è molto cara la bolletta È stato costruito un pozzo E noi adesso provvederemo a completarlo con pompa solare e purificazione d'acqua Perché ovviamente l'acqua dal sottosuolo arriva salata Questo permetterà di avere una dieta equilibrata e variata Perché è importante capire che in Africa si muore anche di fame Ma in realtà si muore di più per la malnutrizione Questo è il dormitorio Sono dei materassi a terra e questo perché non hanno letti a sufficienza Ci sono animali mortali Abbiamo dei ragni velenosi, serpenti Già la porta, come avete visto, non è totalmente chiusa Ovviamente se un bambino è steso per terra Un animale facilmente entra, possono anche morire Ad agosto una bambina della scuola, Joyce, di 5 anni, è morta per malaria Non si muore di malaria C'è un antibiotico I genitori non hanno potuto comprare un test diagnostico Fino a che era talmente compromessa Che poco dopo è morta Tra i nostri progetti a lungo termine Abbiamo quello di creare un dispensario medico Con delle medicine di base Perché considerate che il primo ospedale è a Malinni Più o meno a un'ora e mezzo da qui Non ci sono trasporti, non c'è modo per andare Vorremmo cercare di creare in questa area Che diventerebbe anche un punto di riferimento Per tutta l'area circostante Quindi non solo per la scuola ma anche per i villaggini vicini Cosa può succedere se un abruzzese viene in Kenya E fa giocare a pallone dei bambini Con le divise del Giulianova Calcio e del Teramo Calcio Che ringrazio per avermi regalato una quarantina, cinquantina di divise insieme Adesso regaleremo a tutti questi bambini E faremo una partitella all'insegna dello sport Della pace, di volerci bene, di divertirci Non è che veniamo in Kenya e ci facciamo dire male Già abbiamo pure le nostre divise Beneficenza anche in Kenya per Gatti Arraiati Oh che bello Già hanno fatto pagi Già c'è più coesione Giugniamo su questa stretta di mano Forte, sfondo No play football No play Corner Corner La curva 2-0 è un altro scatto e sveglia che sto morendo giusto 40 gradi sai com'è ti peggiori cambia mano giocatelo che dire infine ragazzi donate anche 3 euro anche 1 euro da loro può fare la differenza avete sentito quello che ha raccontato Luna ma io a fine partitella con 40 gradi mezz'ora scarsa torno in albergo mi faccio una doccia gelata e miscolo 2 litri d'acqua loro no e la prima vera botta di culo nella vita è dove si nasce